Secondo me la cosa molto importante è cercare di fare il tuo lavoro, la tua passione sempre al massimo cercando di metterci tutto te stesso e naturalmente i tifosi, quelli che sono appassionati e nel nostro caso di corse di moto lo vedono e quindi probabilmente è questo il miglior modo per trasmettere il canto Questa è la mia vita, per me è un'esplice per me è un'esplice, perché ho aspettato una cosa che ha fatto e il risultato è un'esplice, e il risultato è un'esplice, e questo è quello che mi ha fatto lavorare e la cosa più difficile per fare. Questa è la mia prima carriera in moto GP, è molto difficile, la categoria è molto forte, quindi mi ha bisogno di essere patiente, lavorare sempre e, sì, humbli. A questo modo, un giorno di potermi il momento che sia un'escalto in cui potrebbe poter la possibilità. E un po' di un'escalte per essere un'escalte una volta che potrebbe essere piaciuto di un'escalte. Facciamo un'escalte più buono. Mi sono sempre un'escalte di una sola per la tua, non solo una pistola. Mi è solo un'escalte di 20 anni che trasporta di una sola per la tua. Quando ando su una bicicletta, mi sento un tono. E questo è importante per prendere il massimo dall'istrumento. Tutti, non solo io, credo che tutti andiamo a passare alcune difficoltà e difficoltà in vita. È parte della definizione della vita. Ci sono opportunità di imparare, di riuscire. È attraverso le difficoltà che puoi traspare queste porte semplicemente chiude. Ma non è solo la tua abitura, ma non è solo la tua abitura. È solo un po' di tempo, e devi essere patienti, devi essere forte. La tua abitura vuoi insegnare, ma senza queste messe, non ti riesce. La tua abitura è inutile. La musica è solo il mio migliore, che mi aiuta a capire tutto tutto. Due Yamaha, una passione. Grazie a tutti.